salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi nuovo volo con il l'auto livo ci troviamo al lago del segrino avevo già fatto un video in questo posto con il mavicr ho deciso adesso di farne uno sempre in questa location con l'auto livo quindi adesso preparo tutto e decolliamo quell'auto livo per vedere il lago del segrino con questo drone e confrontarlo magari con il video che ho fatto con il mavicr quindi adesso decolliamo l'auto livo ciao 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 ciao